Sentiamo anche dalla musica che ci accompagna in questo spazio, Woman, la canzone di John Lennon, che un po' è una dedica a tutto il genere femminile, insomma è stata scritta nel 1981, è stata pubblicata un mese dopo la morte di John Lennon, insomma una musica davvero che è il nostro simbolo, è il nostro inno. E beh, questo spazio è dedicato proprio a noi donne e lo facciamo con tanti consigli utili, grazie alla presenza della professoressa Anna Maria Colau, benvenuta innanzitutto professoressa, professoressa, io ricordo, docente di endocrinologia all'Università Federico II di Napoli, nonché, questo è il nostro orgoglio tutto femminile, presidente della Società Italiana di Endocrinologia, dopo 70 anni è tenuta insomma la presidenza da una donna, benvenuta davvero professoressa. Grazie di questo invito. Allora, iniziamo subito perché meno pausa, quando si parla di meno pausa noi donne ci buttiamo un po' a terra. E beh, però è un periodo che noi dobbiamo affrontare, fra un po' sentiremo anche i consigli di una bravissima psicoterapeuta. Però, prima di arrivare alla menopausa c'è un altro periodo un po' dimenticato, la perimenopausa. Allora, che cos'è esattamente? A cosa dobbiamo fare attenzione in questi anni che precedono la menopausa? Sì, hai detto molto bene, la menopausa è l'ultima mestruazione in realtà, non è un periodo, identifica l'ultima mestruazione, mentre la perimenopausa, detta climaterio, è un periodo che può precedere anche di 10 anni l'ultima mestruazione e può anche poi seguire altri anni dopo questo evento. La donna ha quindi una sorta di spartiacque tra la sua vita fertile e la lunga vita che poi dopo segue al momento in cui noi non possiamo più procreare per questioni di sicurezza sia del feto sia della donna stessa. Quindi la natura ha protetto le donne dopo una certa età nei confronti di una gravidanza. Che cosa accade? Che gli ormoni prodotti dall'ovaio cominciano a ridursi e con la riduzione di questi ormoni cominciano una serie di problemi non solo metabolici, l'aumento del peso, del colesterolo, della glicemia che poi portano ad un aumento della pressione, ma anche un'irregolarità del tono dell'umore, quindi cambiamenti rapidi dell'umore con insonnia, questa è un'altra delle caratteristiche, e anche sintomi neurovegetativi come le vampate di calore, le sudorazioni improvvise che rendono molto complicata la gestione di questo lungo periodo, non solo per la donna ma anche per i familiari che sono intorno, quindi dobbiamo dare anche questo tipo di segnale. Ecco, questi sono i segnali, per cui i segnali che iniziano un po' prima, cioè noi magari abbiamo, come ha detto lei professore, sono sparti acque, magari può essere identificato come 50 anni, in cui noi comunque supergiù, la media, però prima, addirittura 10 anni prima, ci sono dei segnali che ci invia il nostro corpo, non ci dobbiamo preoccupare perché è un periodo fisiologico a cui tutte prima o poi abbracceremo questo periodo, con tanti consigli che ci sta dando la professoressa. Anche la tiroide può essere complicata perché le patologie della tiroide stanno aumentando e in menopausa peggiorano professoressa? Allora, le patologie tiroidee sono già molto più frequenti nella donna che nell'uomo di circa 5 volte, infatti il cartello lo dice 500%, sia perché gli ormoni caratterizzano tutta la vita femminile, le donne hanno già dalla prima mestruazione dei cambiamenti ciclici mensili della qualità di produzione degli ormoni che modificano anche tutti gli altri ormoni, quindi non sono solo quelli del ciclo che cambiano ma anche tutti gli altri ormoni in conseguenza. Gli estrogeni sono ormoni molto potenti che stimolano la sintesi di alcune proteine che portano il trasporto degli altri ormoni, ecco perché ci sono patologie che poi diventano molto più evidenti dopo la menopausa, le malattie della tiroide, una di queste, sia per l'aumento delle malattie autoimmuni, la tiroidite di Hashimoto che è diventata una patologia molto frequente, sia perché si slatentizzano delle situazioni che precedevano ma che erano state in buon compenso fino al momento della menopausa. Quindi il consiglio è una donna che si avvia con questi sintomi a consultare non solo il ginecologo che ha naturalmente un compito molto importante nella gestione della salute delle donne in questo momento ma anche l'endocrinologo. L'endocrinologo ha maggior ragione. Allora ci sono degli esami da fare in questo periodo, ci vogliamo voler bene, per cui ci dobbiamo controllare proprio perché appunto noi donne purtroppo siamo sottoposte, magari abbiamo un po' più di poca attenzione diciamo così, insomma ci vogliamo poco bene ogni tanto, a maggior ragione ci vogliamo voler ancora di più facendoci degli esami, una prevenzione. Quali sono gli esami? Allora nel periodo del climaterio conviene cominciare a controllare sia tutto l'asse generale del metabolismo quindi la glicemia, i lipidi, colesterolo, trigliceridi, la funzione renale, la funzione epatica ma anche qualche inizio di valutazione dell'asse endocrino, quindi per l'appunto gli ormoni del ciclo, gli estrogeni, il progesterone, gli ormoni ipofisari, l'FSH e l'LH ma anche gli ormoni tiroidei per essere certi che la situazione globalmente considerata è in buon compenso. Vedo anche dalle immagini la MOC, di solito noi consigliamo la MOC un po' dopo la menopausa però le donne che hanno avuto per esempio malattie importanti da giovani, parlo di malattie oncologiche o malattie congenite o malattie di malassorbimento, sarebbe opportuno che la MOC la facessero anche un po' prima perché l'osso non si è formato in modo solido durante l'adolescenza e la giovane età e quindi probabilmente la perdita dell'osso precede addirittura la perdita degli ormoni. E non abbiamo più la copertura appunto degli estrogeni che ci aiutano anche in questo caso. Allora la vitamina D è un capitolo abbastanza importante perché proprio pochi giorni fa l'AIFA ha deciso, ha ristretto la prescrizione di questa vitamina da 20 nanogrammi per millilitro a 12 nanogrammi per millilitro. La vitamina D è una vitamina importante, è un ormone per cui serve a noi donne. Io so che molti di voi specialisti non sono molto d'accordo con l'AIFA. Vi diremo, ci dobbiamo fermare, una piccolissima pausa pubblicitaria, vi diremo il perché, il per come, come deve essere assunta la vitamina D. Restate con noi, il tempo di un caffè e torniamo subito in diretta. Bentornati in diretta, siamo in compagnia della professoressa Anna Maria Colau, stiamo parlando della salute della donna. Ci siamo fermati parlando di vitamina D, perché l'AIFA pochi giorni fa ha ristretto la prescrivibilità di questa vitamina così importante che è un ormone da 20 nanogrammi per millilitro a 12 nanogrammi per millilitro. Per cui questa decisione? Stiamo leggendo alcuni titoli di giornale, proprio perché alcuni specialisti si sono rivoltati contro questa decisione. I medici, molti medici hanno detto una scelta miope. Perché, professoressa, faccia chiarezza. La decisione è stata basata su alcuni studi che sono stati pubblicati, in cui le popolazioni sono state trattate o non trattate con vitamina D rispetto a due temi. Uno è l'incidenza delle fratture di fragilità e il secondo era la risposta durante il Covid. Per le fratture di fragilità c'è sicuramente una logica, perché la vitamina D, meglio detta calcitriolo, che è un ormone che viene prodotto dopo un passaggio da fegato e reni, è il principale anabolico dell'osso. È quello che noi utilizziamo nella prima adolescenza, fino alla giovane età adulta, per costruirci un osso forte. Dopo i 30 anni lo perdiamo gradualmente. Naturalmente lo perdiamo di più se abbiamo patologie importanti in quel lungo percorso dai 30 anni fino ai 50, che è stata l'età in cui sono stati inseriti i soggetti dello studio. Il secondo tema, quello del Covid, invece è ancora più incredibile. Un malato non può pensare di risolvere il problema con un prodotto che riguarda la prevenzione. Il calcitriolo è un fattore che identifica il buono stato di salute di un individuo. Quando è molto basso vuol dire che quella persona ha uno stile di vita non sano, non si espone alla luce solare, non mangia in maniera corretta, non fa esercizio fisico. Quindi è un parametro più che ci dice la buona salute di quell'individuo, più che l'effetto durante una terapia che va fatta secondo i canoni di una patologia. E quindi non va analizzato per questo. Speriamo che l'AIFA ci ripensi in tutto questo. Speriamo, speriamo. Perché è un studio abbastanza piccolo e poi l'importanza della vitamina D l'abbiamo raccolto anche durante il periodo della pandemia. Quanto ci ha fatto bene poter implementare con questo ormone così importante. rispondiamo agli amici che ci stanno seguendo da casa, rispondiamo ad Anna Maria che ci scrive da Padova e ci chiede faccio da due anni la terapia ormonale sostitutiva e sono tornate le vampate. Perché? Perché dipende dal tipo di terapia ormonale sostitutiva che sta facendo la nostra amica. Di terapie sostitutive oggi ne abbiamo moltissime e naturalmente varia il dosaggio che viene prescritto per cercare di dare un dosaggio che sia sufficiente a togliere i sintomi ma che non crei delle problematiche relative all'ormone stesso. Oggi sappiamo che la principale attenzione va posta a donne con problemi sia familiari che congeniti o personali di coagulazione. Quindi va sconsigliata a chi ha già avuto una trombosi o un ictus o un infarto. Lì dobbiamo stare molto attenti. Su altri casi, perché la terapia ormonale sostitutiva, professoressa, lei mi insegna che è stata per anni dibattuta. Perché molti specialisti dicevano che poteva far insorgere qualche tumore. Allora, è stata rivista tutta questa ricerca, letteratura? È stata un po' rivista ultimamente, o sbaglio? Sì, si sta rivedendo, perché ovviamente noi siamo un po' limitati dal fatto che negli anni 60-70 gli estrogeni che venivano utilizzati erano non gli estrogeni biosimilari, quindi 17 beta estradiro, ma erano miscele di estrogeni coniugati di derivazione animale con un dosaggio 5 volte superiore a quello che si utilizza oggi. Quindi mettere insieme gli studi antichi con quelli più recenti crea un errore molto importante di valutazione. La paura del cancro della mammella, oggi se guardiamo il profilo delle nuove donne che si ammalano del cancro della mammella, dobbiamo dire che l'aumento vero è prima della menopausa, quando le donne hanno ancora i loro estrogeni, piuttosto che dopo la menopausa. Naturalmente dobbiamo raccomandare sempre le procedure di prevenzione. tutte le donne ogni anno devono sottoporsi sia alla valutazione della mammografia per escludere un tumore della mammella, che a quella ginecologica per essere certi del tumore dell'ovaio e dell'utero. Quindi fatte bene le procedure di prevenzione, possiamo dire che con le nuove terapie ormonali sostitutive i rischi veri oncologici sono molto piccoli, non sono assenti. In medicina non c'è mai niente che possiamo dire sia zero, però sono molto piccoli. Più importanti sono i rischi per la coagulazione e quelli anche vanno monitorati. E anche per chi non può abbracciare una terapia ormonale sostitutiva, ci sono dei sostituti, anche degli integratori, che possono simulare anche l'effetto ormonale, professoressa? Ci sono molti integratori oggi, molte combinazioni anche di integratori che risolvono soprattutto i sintomi neurovegetativi. Va detto che gli ormoni sono molto potenti su tutti i sistemi, non solo sul sistema nervoso centrale, ma sulla pelle, sul tono proteico, sia della pelle, del sottocute che delle ossa. Mentre gli integratori agiscono prevalentemente sui disturbi neurovegetativi, il sonno, le vampate, la sudorazione, che rendono poi la vita quotidiana veramente molto difficile a volte. Molto difficile, abbiamo detto che è un periodo fisiologico per noi donne, però non ci dobbiamo dimenticare anche la sfera emotiva, psicologica. Noi donne, insomma, in quel periodo siamo sicuramente più vulnerabili. Allora ci occorre una mano, un aiuto, dei consigli. E noi abbiamo raccolto i consigli di una psicologa, di una psicoterapeuta, la dottoressa Isabella Continisio. Ascoltiamo i suoi consigli. La menopausa non è una malattia, è un evento fisiologico, cioè una delle tappe del ciclo vitale. Uno, impariamo a riconoscere i segnali del corpo. Spesso sentiamo dire la mente mente, il corpo mai. Poi, impariamo a riconoscere i segnali che il corpo ci invia continuamente perché ci indica gli stili di vita da adottare, quelli da modificare per tentare di trovare un equilibrio possibile, fattibile. Due, impariamo a vivere nel qui e ora. Spesso pensiamo al passato come un qualcosa di perduto, ma ciò genera molta angoscia. Oppure ci proiettiamo nel futuro preoccupandoci per ciò che sarà, ma anche questo genera ansia. L'unica vera possibilità è concentrarci sul migliorare al massimo la qualità della vita del presente. La menopausa non va vista come la fine dell'età fertile, ma come l'inizio di una nuova fase di vita. Mai confondere femminilità con fertilità. Siamo donne a prescindere. Siamo donne a prescindere, professoressa. Questo va detto, allora rispondiamo ad un'altra domanda di una nostra amica, Gioia, ci scrive da Cunia o ci chiede da quando sono in menopausa, dormo male, cosa posso fare? Allora, questo è uno dei segnali neurovegetativi del climaterio. Intanto vanno eliminate tutte quelle procedure che ci tengono sveglie, l'esercizio fisico in tarda sera, il consumo di alcolici, pensando che ci favorisca il sonno, un cibo troppo abbondante la sera e guardare molto schermi televisivi, iPad, telefoni. Cerchiamo di rilassare l'ambiente. Durante il sonno recuperiamo tutto il quanto si è rotto durante il giorno. Quindi è molto importante dormire. In alternativa ci aiutiamo con prodotti naturali, in particolare con la melatonina, che è l'ormone che naturalmente ci favorisce il sonno. Grazie, grazie di cuore alla professoressa Anna Maria Colau. Grazie per averci dato questi consigli. Grazie.